I4Task potenzia i laboratori 4.0 degli istituti tecnologici superiori, gli ITS Academy. Il Ministero dell'Istruzione del Merito prevede di destinare 500 milioni del PNRR per migliorare la loro offerta formativa, gli spazi e le dotazioni laboratoriali con l'adozione delle tecnologie più moderne e di strumenti innovativi, proprio come I4Task. I4Task è la piattaforma per la collaborazione a distanza tra esperti e personale sul campo per lo svolgimento di attività di manutenzione, certificazione, ispezione o assistenza. Nelle attività laboratoriali, I4Task permette a ragazzi e ragazze degli ITS di sperimentare tecnologie immersive e strumenti wearable per progettare ed effettuare interventi simulati in scenari realistici. Ad esempio procedure di collaudo, certificazioni di processo, assistenza guidata alla manutenzione in AR, raccolta dati e ispezioni, tutto su smart glasses e tramite comandi vocali. Gli studenti acquisiscono familiarità con gli strumenti e le tecnologie del mondo del lavoro, affine le soft skill, lavorando in gruppo per progettare e realizzare procedure e attività contestualizzate. I docenti lavorano su una piattaforma intuitiva e semplice da usare, coinvolgono gli studenti in attività di gaming. I4Task potenzia le competenze, stimola il confronto e la collaborazione e la formazione esperienziale per i lavoratori e le lavoratrici di oggi e domani. I4Task potenzia le competenze